cari figli pregate lavorate e testimoniate con amore il regno dei cieli affinché possiate stare bene qui sulla terra figlioli dio benedirà il centuplo il vostro sforzo e sarete testimoni tra i popoli le anime dei non credenti sentiranno la grazia della conversione ed il cielo sarà grato per le vostre fatiche e i vostri sacrifici figlioli testimoniate con il rosario nella mano che siete miei e decidetevi per la santità grazie per aver risposto alla mia chiamata allora lavoriamo preghiamo testimoniamo insieme e con il rosario in mano decidiamoci per la santità io vi stringo in un unico abbraccio e vi auguro una santa notte la vostra piccola matita del cuore